Cari amiche ed amici lettori di Coro Far Salute, ben ritrovati. Beh, parlare di dieta non è una cosa insolita. Ogni tanto ne esce qualcuna eclatante, ogni tanto ne esce qualcuna stupefacente, ogni tanto ne esce qualcuna completamente impensabile. Ma ogni tanto arriva qualche cosa che dice qualcosa di estremamente importante ed estremamente credibile proprio nel mondo dell'alimentazione, in quella che è la nostra alimentazione quotidiana. Quando un gruppo di scienziati e di ricercatori decide di andare ad analizzare il nostro modello di alimentazione per andare a ritrovare, qualora li avessimo persi, i capisaldi di un'alimentazione naturale e soprattutto quando qualcosa di quello che ci viene raccontato acquisisce le caratteristiche della vera e profonda scienza alimentare, beh, in quel momento forse si sta dicendo qualcosa davanti alla quale non possiamo scappare. Voglio parlare esattamente, e la troverete raccontata nel dettaglio, nel numero di Coro Far Salute che è in farmacia in questo momento, beh, nelle farmacie del circuito, ovviamente di Coro Far, beh, in questo caso, volevo dire, parliamo di qualcosa di scientificamente inoppugnabile, parliamo cioè della dieta Smart Food, quella messa a punto dal gruppo di ricercatori dell'Istituto Oncologico Europeo che hanno esattamente determinato un modello alimentare che acquisisce e implementa la nostra capacità di sopravvivenza e la nostra capacità di difesa davanti alle aggressioni che, incredibilmente, il cibo riesce a fare al nostro organismo quotidianamente. Sono stati messi a punto 20 componenti alimentari definiti longevity e 10 componenti alimentari definiti protective. Sono fondamentalmente vegetali, cereali, proteine di origine non animale. Bene, i ricercatori dell'OEO ci dicono che con un'alimentazione nella quale si abbia il rispetto dell'utilizzo di queste sostanze, beh, noi si possa veramente arrivare a diventare più vecchi a tavola, intendendo ad allungare la nostra possibilità di sopravvivenza e quindi a cambiare, incredibilmente, la nostra vita. Abbiamo quindi visto che si può cambiare vita anche a tavola.